Nata a Bussoleno, in provincia di Torino, dotata di una bella voce, partecipa all'ora del dilettante, trasmissione organizzata dalle IAR, riuscendo a vincere nel 1940, la gara, al teatro Carlo Felice, nel capoluogo piemontese, attratta dal mondo dello teatro, che frequenta come filodrammatica, inizia a lavorare a livello professionale in spettacoli di rivista, partecipando anche a piccoli spettacoli radiofonici. Nelle due stagioni teatrali 1949-1951, viene scritturata nella compagnia di Edoardo De Filippo, interpretando parti brillanti e comiche.